Ben trovati con le notizie di ETV Marche, edizione serale che apriamo con questo 25 novembre, giornata internazionale nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Ebbene nel 2017, in questa giornata di riflessione, sono state 116 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza di Ancona, secondo i dati del report presentato dall'assessore alle pari opportunità della regione Marche Emanuele Bora. Di queste si legge il 75% è costituito da donne italiane coniugate, mediamente istruite, occupate in modo stabile. Questi numeri, insieme a quelli nazionali che vedono 94 donne uccise nei primi nove mesi del 2018, nello stesso periodo dello scorso anno furono 97, osservano i sindacati Cigelle e Cislewil, dicono che il fenomeno della violenza sulle donne è ancora purtroppo molto diffuso. Dalla lotta contro la violenza nei confronti delle donne ai diritti dietro le sbarre, che è stato anche il titolo di un convegno al Teatro delle Musi di Ancona, un momento di riflessione sull'intero sistema penitenziario marchigiano. Diritti dietro le sbarre è stato questo il tema al centro dell'omonimo convegno per una riflessione complessiva sul sistema penitenziario, un appuntamento organizzato dal garante regionale con il patrocinio del Ministero della Giustizia, del Consiglio regionale, dell'Ordine degli Avvocati di Ancona e di quello delle assistenti sociali delle Marche. Un momento per interrogarsi sull'ordinamento penitenziario con la riforma, ma anche per ipotesi di intervento per un carcere più dignitoso per chi è ristretto e per chi ci lavora. Al centro anche la tutela dei minori in un contesto che possa garantire il rapporto con i genitori detenuti. Resta il problema del sovraffollamento. Nel carcere di Montacuto ad Ancona, ad esempio, per 300 detenuti, ci sono 120 agenti di polizia penitenziaria previsti in pianta organica, almeno 50 in più. La riforma dell'ordinamento penitenziario che è andata in vigore pochi giorni fa, per quanto riguarda l'esecuzione, tocca essenzialmente l'esecuzione dei minorenni, che per la prima volta viene disciplinata in modo organico. In generale il tema dell'esecuzione non è stato toccato, perché la scelta di questo Governo è stata quella di frenare alcuni degli aspetti che erano stati decisi negli stati generali dell'esecuzione, i cui lavori erano finiti nel 2017. Quindi fondamentalmente rimangono le tematiche e problemi generali dell'esecuzione penale. Ricordiamo che continua a essere presente il problema del sovraffollamento nei nostri istituti. La compressione delle risorse rende più complicato l'avvio di percorsi di risocializzazione. È un segnale d'attenzione che mandiamo, non a caso il convegno si intitola diritti dietro le sbarre. La pagina della politica ora verso il rinnovamento del Partito Democratico, un rinnovamento che parte dalle regioni, in particolare nelle Marche. Il 2 dicembre prossimo sarà sfida tra Gostoli e Petrini a livello nazionale, invece tra Minniti e Zingaretti. Allora, per quanto riguarda le interviste della domenica, ecco il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Le Marche, anticamera di Via del Nazareno. Gostoli e Petrini anticipano Minniti, Zingaretti. Il percorso del rinnovo del PD fa la conta prima nelle regioni, poi a Roma. Tra sostegno in crocio e correnti interne che soffiano tutte verso il rinnovamento, il 2 dicembre è stata fissata la data delle primarie. Tra Giovanni Gostoli, segretario dei DEM della provincia di Pesaro, proposto dagli altri segretari provinciali, dal governatore Ceriscioli e dal sindaco di Pesaro Ricci, e Paolo Petrini, ex consigliere in regione ed ex deputato, appoggiato dai sindaci di Ancona, Macerate e Recanati, oltre agli ex parlamentari Carrescia e Lodolini. Io credo che la candidatura di Gostoli sia nata con lo spirito unitario di chi vuole valorizzare le tante cose fatte in regione e al tempo stesso vuole aiutare la regione a migliorare, a cambiare laddove necessarie. Non abbiamo bisogno, a mio parere, di scontri al nostro interno, di un congresso contro la regione Marche, che, come purtroppo temevo, si sta impostando. Abbiamo bisogno, invece, di un partito unito e anche con una certa dose di coraggio, di rinnovamento. Credo che Giovanni Gostoli rappresenta al meglio questa strada, pur sapendo, ovviamente, che il giorno dopo dovremo lavorare tutti insieme e iniziare da Paolo Petrini. Se nelle Marche i sindaci si sono divisi, a livello nazionale sono stati più unitari nel firmare il documento a sostegno di Marco Minniti, dell'area Renziana, e prima ministro dell'Interno, che sfiderà il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Minniti, in questo momento storico, possa essere la risposta giusta. Abbiamo bisogno di grande forza e grande autorevolezza. Siamo molto preoccupati per come i 5 Stelle e la Lega stanno governando il Paese, lo stanno portando a sbattere dal punto di vista economico, stanno creando tante tensioni e c'è tanta incompetenza al governo in questo momento. Quindi servono figure autorevoli, in grado di fare un'opposizione durissima, che non abbiano dubbi sul fatto che non si possano fare alleanze con i 5 Stelle, cosa che dentro il PD non sempre è stata chiara, e che possano cominciare a costruire un'alternativa vera, a iniziare dalle politiche europeiste, perché noi temiamo che le prossime europee possano diventare la fine dell'Europa. L'Italia senza Europa è più debole, e senza Europa noi rischiamo di avere non solo più conflittualità, ma anche meno competitività per il nostro Paese. Quindi serve una guida autorevole, credo che Minniti possa essere la guida più forte in questo momento, senza nulla togliere agli altri, ma mi pare sicuramente il più autorevole, non a caso ci sono più di 500 sindaci che hanno firmato la sua candidatura. Parliamo di infrastrutture, perché l'assessore in regione Marche, nonché vicepresidente Anna Casini, sollecita gli imprenditori in vista della pubblicazione del bando, che avverrà domani destinato a selezionare i soci privati per Erdorica. Il dibattito si era acceso nei giorni scorsi tra gli imprenditori, dopo il sasso lanciato da Orietta Varnelli, che aveva chiesto al mondo delle imprese di mettersi in gioco per il futuro dello scalo. In particolare nel bando che sarà pubblicato domani sulla Gazzetta Ufficiale, si individua un socio privato che potrà sottoscrivere un aumento di capitale da 15 milioni di euro, condizione per la quale la comunità europea potrà autorizzare la procedura per rendere disponibili 25 milioni già stanziati con legge della regione Marche e che serviranno a saldare il debito della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Cambiamo pagina perché ci avviciniamo al Natale. I comuni nella giornata di ieri tanti sono quelli che hanno dato il là alle rispettive iniziative in vista delle festività. Cominciamo da Ancona, dove la pioggia ha fatto tardare il programma di circa un quarto d'ora, ma non è bastata però affermare la voglia di Natale in città. Le luci dell'albero in Piazza Roma si sono accese infatti alle 18.45, anche in diretta su ETV Marche, insieme alle luminarie che animeranno la spina dei corsi nelle notti più belle dell'anno. Bianco Natale è iniziato davanti ad una piazza gremita. Il presentatore della serata, il nostro Maurizio Socci, è salito sul palco, attesa prolungata, ha lasciato spazio poi alla festa. I saluti del sindaco Valeria Mancinelli, che ha detto iniziano 44 giorni per riassaporare la gioia dell'appartenenza e dell'orgoglio e per ridare grande attrattività ad Ancona. Saranno 44 giorni tutti da vivere, ha detto il primo cittadino. E anche Piazza del Popolo, a Pesaro, ha fatto il pieno per l'accensione del suo albero di Natale, il più illuminato d'Italia con 25.000 luci a LED e un volo di 4.000 palloncini rossi dopo la proiezione sulla facciata di Palazzo Ducale dei disegni di Liu Iui, studentessa del liceo artistico Mengaroni, nella narrazione della favola Disconnettersi per Riconnettersi, scritta da Massimiliano Santini con il pubblico a battere le mani. A ritmo l'accensione dell'albero sulle note di un coro gospel ha segnato l'avvio dei 115 eventi spalmati su 44 giorni nel centro storico per la piazza di Natale. E a Macerata è stato presentato invece il cartellone degli eventi dal 1 di dicembre fino al 18 di gennaio. 50 giorni, oltre 70 appuntamenti, 38 associazioni partecipanti, 30 location, mercatini natalizi, pista di ghiaccio, il villaggio di Babbo Natale, presepi, concerti, mostre, feste di Capodanno e Befana. Tutto questo è Macerata d'inverno sintetizzato nell'immagine dell'illustratrice di Arts in Fabula, Veronica Ruffato. Una città aperta, inclusiva, serena, capace di stare insieme e vede la piazza come il luogo della comunità. È per questo che abbiamo dato il nome alla nostra feste, Feste di Piazza. È la nostra tradizione maceratese, andare su piazza. E così con questo stesso clima vogliamo vivere insieme un Natale pieno di gioia, di festa, con tante sorprese e soprattutto sotto un cielo stellato. Il primo cittadino lancia anche un messaggio di distensione alla città. Nella lettera a Babbo Natale che ho scritto il titolo era Nessuno contro nessuno. Ci piacerebbe che lo spirito con cui noi riusciamo a vivere questo mese e mezzo sia uno spirito che aiuti a ritrovarci, lasciando a casa o magari buttando dalla finestra le diffidenze, i toni alti, proprio qualche volta anche qualche forma di cattiveria personale che oggi purtroppo riusciamo a esprimere qualche volta anche gratuitamente. Tante dunque, come detto, le collaborazioni che cercheranno di portare più gente possibile in città partendo da sabato prossimo. Diamo appuntamento a tutti sabato primo dicembre alle ore 17, macerata sotto un cielo stellato. Si inaugura le festività natalizie con l'accensione delle luminari, con una sorpresa bellissima di un cielo stellato sulla Piazza della Libertà e con l'accensione di tutta la città, dalle frazioni Piediripa, Villa Potenza, Sforza Costa, fino al centro storico. La pagina sportiva ora in Serie B, finita 1-1 tra Pescara ed Ascoli, la sfida dell'Adriatico, Brugman per i pescaresi, pareggio di Ardemagni, invece per i bianconeri che hanno chiuso in 10 per l'espulsione di Delia, doppia munizione. In Serie C, Giron e B fanno battuto a Salò dalla Feralpi, decide la rete di Scarsella al 76esimo minuto di gioco, qui lo rivediamo. Invece finita 0-0 a Riviera delle Palme tra San Benedettese e Triestina, i fari puntati erano tutti sul Benelli per il derby tra Vis Pesaro e Fermano. Un derby che si è sbloccato dopo un quarto d'ora grazie all'autogol di Clemente, intervenuto in scivolata per anticipare, nel tentativo di anticipare Diop, l'attaccante della Vis Pesaro. Nel primo tempo, alla fine del primo tempo, la Fermana è rimasta in 10 per l'espulsione di Capitana Comotto, doppio giallo i suoi danni, ma alla mezz'ora Comotto aveva assegnato un gol che secondo le immagini poteva essere convalidato, non è stato così per la terna arbitrale. Nella ripresa nel finale all'ottantacinquesimo, una bella azione personale di Olcese che si gira in area liberandosi di un avversario e poi di un altro, poi mettendo all'angolino, realizzando dunque il gol del 2-0, che di fatto è il gol che chiude la pratica. Tre minuti più tardi arriverà anche il terzo gol, quello di Rizzato, con un bel diagonale di sinistro. Con questa vittoria la Vis Pesaro conquista la seconda vittoria consecutiva, ma soprattutto si arrampica con 22 punti al secondo posto a meno uno proprio dalla Fermana capolista in attesa del posticipo di domani sera tra Pordenone e la Ternana, che potrebbe cambiare eventualmente proprio il viso ed il volto delle prime posizioni in classifica, nonché del primo posto. E poi a lunedì nel pallone domani sera alle 21.20 tutti gli approfondimenti sulla Serie C, in particolare il focus sul derby tra Vis e Fermana e gli altri temi del Girone B. In promozione invece l'Anconitana è tornata alla vittoria, vincendo 4-1 contro il Marzocca. Questa sera la differita integrale alle 23.15 su Etv. Questa è la sintesi. Il turnale, ma è pur sempre il 25 novembre, partiti. Perde palla, bravo Zagaglia a riconquistarla, poi Montanari di prima a cercare il movimento di Moschini che salta a Colombanetti il tiro. E il Marzocca va già in vantaggio alla terzo minuto. Rival, cerca Zaldua, la palla per Pier Gallini che entra in area di rigore. Il tiro, il pareggio. Nel terreno di gioco del Diana è sulla fascia sinistra l'attacco dell'Anconitana in questo primo tempo. Lory, attenzione alla pressing che va a buon fine di Moschini. Rischia tantissimo Gian Claudio Lory, poi Pucci. Quindi Iacheta andrà alla cross probabilmente. La palla sul secondo palo. Attenzione che deve fare un miracolo praticamente il portiere Brunelli. Inizio del gioco la propria parte. Attenzione, colpo di testa, la palla e il gol. Ha segnato Zaldua. Si fa vedere Pier Gallini che arriva in una velocità come un treno. Ed è in area di rigore, prova al tiro. Palo. La palla ancora buona per Ruivala. Altissimo da posizione. Il cross per Zaldua. Il colpo di testa sul secondo palo. Il miracolo. Di Brunelli con un fallo. Si fa vedere Zagade. Si fa vedere anche Zaldua che viene servito. In area di rigore. L'argentino prova a girarsi la parata di Brunelli. Palla in area di rigore. Moschini si libra bene con un dribbling. Poi tira di sinistra. La palla finisce altissima. Stavolta sì. La spona di Zaldua. E l'arbitro con due secondi di anticipo decide che può bastare così. Azioni l'Anconitana mentre prende via la ripresa in questo istante. Con una grande azione in sala solitare. Entra in area di rigore il cross. Trombetta. Attenzione a Terreca. Può andare al tiro. La palla finisce di poco fuori. Ci prova il Marzocca. Ma si perde l'azione di contropiede dell'Anconitana. Terreca lotta con Pucci. Commette fallo. Non secondo l'arbitro. E Terreca entra in area di rigore. Si libera il giocatore. Lori. Miracolosa parata di Lori. Iacchetta colpo in testa. La palla rimane lì. Ancora Lex Amatelica che la palla sui piedi. La porta sul sinistro. Può cercare di andare via a palla al piede. Il cross alza il tiro. La parata. Il cross sul secondo palo. Il colpo in testa di Zagaglia. E la paratissima quasi per caso. Della portiere Brunelli. Questo è più un gol sbagliato. Che puntano sulla parte del campo. Che ci andrà a vedere la battuta alla punizione. Parte Trombetta. La parata del portiere. Poi Zagaglia. Stavolta non sbaglia. Parte Giuninio. 4-1 per l'Anconitana. Capolavoro di Giuninio Venturim. L'Oretto. È game over. Al Diana di Osimo. L'Anconitana batte 4-1. L'Olimpia Marzocca. Noi siamo in chiusura. Vi ricordiamo che come di consueto. Tutte le notizie le potete trovare pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarca.it. È tutto per questa edizione. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie per la visione.